È stato siglato a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati il protocollo d'intesa per inserire il paesaggio della Bonifica Leopoldina della Valdichiana nell'elenco dei paesaggi storici d'Italia. L'accordo coinvolge gli assessorati regionali all'agricoltura, all'urbanistica e le 11 amministrazioni comunali interessate dalla Bonifica, capofila il Comune di Lucignano, per promuovere il valore storico, culturale e paesaggistico del territorio. Questo territorio non è stato modificato ancora oggi, dopo quell'intervento così importante è rimasto dedicato all'agricoltura, è rimasto intatto ed è per questo che ci teniamo ad avere questo riconoscimento storico naturalmente per le nostre attività, per le nostre imprese e per la ricaduta che avrà su tutto quanto il territorio e la parte economica. Il riconoscimento del paesaggio Leopoldina in Valdichiana prevede la predisposizione di un dossier che passerà all'attenzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale e che sarà redatto secondo i criteri approvati dal Ministero per le Politiche Agricole. La Regione ha deciso di supportare il progetto nel comitato organizzatore. A sostegno delle comunità locali, diciamo, ci siamo mossi e abbiamo promosso questo tipo di iniziativa. E' chiaro che è un primo passaggio, dovremo fare tutta una serie di ulteriori verifiche a supporto di questa candidatura ma che indubbiamente rappresentano un percorso che per noi è un percorso estremamente chiaro e condiviso.